Ho trovato una farfalla gigante, è una cosa impressionante, vediamo se riusciamo a farla volare. Eccola qua, ha preso il volo, è la famosissima farfalla pipistrello questa, una farfalla molto grande e io credo che in questo posto qui sia la normalità, qui è tutto gigante, anche le formiche, gli scarafaggi, tutti gli insetti, gli animaletti, i nostri amici, so che voi li volete così tanto bene e qui sono tutti giganti. Ok ragazzi ci sentiamo alla prossima, il mio giro nel Brunei continua.